Importanti scadenze per quanto riguarda i fondi strutturali europei, anche per il Cilento e più in generale per l'intera provincia di Salerno? Sì, noi stiamo monitorando da tempo i fondi strutturali dell'Unione Europea che proprio per la provincia di Salerno prevedono 768 progetti finanziati per un miliardo e due quasi di spesa e abbiamo ancora una certificazione della spesa effettuata ferma al 12%, quindi chiaramente sono dati allarmanti, noi stiamo cercando di esortare gli uffici regionali a fare presto e ad allentare la burocrazia che blocca le opere. Per esempio noi abbiamo queste opere bloccate perché le conferenze di servizi non funzionano più, perché si passano in media in Campania 1.280 giorni a acquisire i pareri sulle progettazioni per lavori superiori ai 2 milioni e mezzo di euro, quindi certamente perderemo molte risorse che per il 2015 non riusciranno ad essere spese. La Campania, lo voglio ricordare, è una delle regioni area obiettivo 1 che ha ancora da spendere 2 miliardi e mezzo in infrastrutture di fondi europei, deve fare presto ma soprattutto deve impiegare questi fondi per colmare il gap infrastrutturale che è sempre più marcato nella nostra provincia. A proposito di infrastrutture c'è un argomento all'ordine del giorno ormai da mesi e riguarda la Cilentana, un importante asse di collegamento tra il Golfo di Policastro, l'Alto Cilento e il resto della provincia di Salerno. 27 gennaio scorso, un movimento franoso ha messo in pericolo la stabilità di un viadotto, in queste settimane è stata disposta proprio un'apertura straordinaria per i soli weekend. Ecco, come si potrebbe uscire da questa situazione? Ma devo dire che l'emergenza cilentana è stata gestita in maniera vergognosa, perché è un'opera così importante, una strada che soprattutto in questo periodo, ad alto afflusso turistico collega la parte sud della provincia con il resto della Campania, è una strada che non poteva e non può rimanere ancora in quello stato. Noi abbiamo un intervento di circa un milione di euro da effettuare per consolidare la pila di un viadotto che ha avuto un cedimento differenziato, ed è un intervento che secondo noi andava fatto con la protezione civile, perché una strada così importante non può subire i ritardi e le lentezze burocratiche del caso. Dobbiamo dire che stiamo cercando anche con gli uffici regionali di attivare un tavolo di protezione civile per risolvere la problematica, perché è stata effettuata una gara di appalto, i lavori presumibilmente partiranno ad ottobre per consolidare la pila del viadotto e finiranno ad aprile 2015. Quindi avremo ancora 7-8 mesi di disagio che potrebbero ridursi a 2-3 se la procedura fosse cambiata in corso di avanzamento. Quindi dobbiamo cercare, come dicevo prima, di sconfiggere la burocrazia, che è il vero male di questa regione Campania, che purtroppo è maglia nera rispetto alle altre regioni per i tempi di attuazione della spesa e dei fondi non solo europei ma anche nazionali.